Scusatemi, buonasera, eccoci qua con Pornostici e Schedine, consigliati da Alessio Miozzi è la volta dell'Europa League, domani ci saranno partite importanti tra cui Milan e Lazio giocheranno rispettivamente con Arsenal e Dinamo Kiev partite non facili, non facili ma fattibili partiamo subito, allora puntando 10 euro una visita è di circa 75 euro non ho una grossa cifra però niente male, non bisogna puntare in alto e vincere tanto ovviamente Atletico Madrid, Lokomotiv Mosca è la prima degli ottavi di finale tranne l'Atletico Madrid di Europa League e qua andiamo sul facile, uno fisso insomma Lokomotiv Mosca, tranne l'Atletico Madrid non fa chissà che cosa dovrebbe vincere tranquillamente Cesca Mosca, o CSKA Mosca contro il Lione qua mettiamo gol ospite gol ospite Lione dovrebbe riuscire a fare almeno un gol a Mosca trasferta non facile però mettiamo gol ospite poi Borussia Dortmund che purtroppo ha battuto l'Atalanta vabbè ha passato il turno contro di loro proprio contro il Salzburgo qua mettiamo over 1,5 Dortmund che comunque non sta facendo impazzire in Europa almeno appunto con l'Atalanta che l'Atalanta ha anche dimostrato di essere una grande squadra insomma quindi con il Salzburgo non si sa mai quindi over 1,5 poi abbiamo per l'appunto Milan Arsenal Milan Arsenal un Arsenal dovete giocare contro Brighton non così convincente non così convincente ma anche in campionato non sta girando benissimo insomma in generale quindi Milan Arsenal 1x Milan vedendo che si è anche riposato visto l'invio del derby può secondo me dar di più dell'Arsenal quindi 1x Lazio-Dinamo-Kiev e qua la Lazio non può sbagliare direi che è in casa tranquillamente 1 fisso Lipsia contro lo Zenit Lipsia che ha lasciato fuori il Napoli in casa con lo Zenit San Pietroburgo qua mettiamo nel dubbio over 1,5 over 1,5 perché è una partita abbastanza equilibrata poi abbiamo l'Olympic di Marsiglia contro l'Atletic Bilbao diciamo partita anche questa abbastanza equilibrata 1x 1x lo possiamo mettere ultima degli ottavi d'andata Sporting Lisbona Vittoria-Pölzen e qua ci mettiamo un 1 fisso tentiamo così puntiamo 10 euro vince tra i 75 euro circa quindi Atletico-Madrid lo confuso di Mosca 1 CSKA-Mosca-Lione gol ospite Borussia Dortmund-Salisburgo over 1,5 Milan-Arsenal 1x Lazio-Dinamo-Kiev 1 fisso Lipsia-Zenni-San Pietroburgo over 1,5 Marsiglia Atletico-Bilbao Atletico-Bilbao 1x Sporting Lisbona Vittoria-Pölzen 1 10 euro vince tra i 75 euro vediamo se facciamo a incazzare qualcosa anche con la Europa League ragazzi questo erano pronostici Eschidina consigliata da Alessio Miozzi che saluto ragazzi buona serata a presto iscrivetevi al canale e ci vediamo domani i prossimi giorni ciao